è diverso, è lo che dici te stava difficile, stava anche Paolo vicino eh si, perchè io quando ho preso Paolo stava niente, in un attimino io stavo si perchè io all'inizio ho sbagliato ah ok figa così su una salita cucciola mi si è rancata anche la moto ok lo sicuro era quello si si con l'enduro è facile è facile è una bella mattina si dopo tu per passare mi sono attaccato si no bene bene vuoto ombre è andato rapido per andare con questo qua più la gomma secondo me si questa è come lavata e la moto è buona ok